Per decorare la parte dietro di una M basta mettere un po' di colla, basta mettere la colla così, fate abbastanza, almeno mi si incolla meglio, così. Poi io adesso faccio con i bledantini bianchi, voi fate come volete, li metti così, fate un po' d'attenzione magari, sembra invisibile questo bianco, per questo è un po' così. Però è molto più bello perché almeno fa la sensazione che c'è la neve. Poi, quando avete finito, provate a spalmare, la spalmate. Poi, dopo, se vedete che in una parte non vi incolla, come mi ha insegnato mamma, fate così. Mettete la colla nelle parti dove non c'è e la strofinate qui. Poi ci rimettete un po' di colla, cioè un po' di bledantini, si è rovinato un po' e si stemmerà tutto. E poi dopo, ecco fatto. E poi ci rimettete un po' di colla, cioè un po' di colla, sì.